Nello scorso episodio avevo lasciato il nostro eroe a lottare con i cannibali in una lunga serata se l'avrò fatta e se si cosa succederà adesso? Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su The Forest ce l'avamo lasciati che stavo lottando contro degli indigeni poi sono andato un po' avanti come vedete ci sono un po' di strutture qua lì ci sono un po' di log di legna anche qua come vedete è sparito un po' di foresta, anzi parecchia altra cosa, là in fondo vedete c'è una bandierina gialla perché quello là è il posto dove pensavo di costruire la casa definitiva dove andrò a dormire il resto delle giornate mentre qua costruirò la base per i materiali quindi per andare a prendere i materiali e spostarli adesso vi faccio vedere, aspettate scusate ho dimenticato di farvi vedere che nel frattempo ho raccolto un bel po' di pellicce quindi potremo craftarci parecchi strumenti ho messo qua a essiccare la carne qua c'è il pesce che purtroppo è variato ho parecchia carne variata perché non la mangio sempre anzi già che ci siamo facciamo così cuciniamoci un braccio o qualcosa non lo so ci cuciniamo facciamo così quattro costine oddio ho cucinato troppa roba ho cucinato braccio gambe e tutto vabbè c'è il biattino? non ti voglio fare da male inutile che scappi comunque le zone dove sono io sono comunque battute è una zona media battuta dagli indigeni perché sono tanto da guardare sul sito di steam lì the forest è una zona appunto battuta dagli indigeni c'è il tipo col culo in fiamme porca miseria oh di mortacci tua brutto figlio di mortacci vostra ma andatevene a fare in ciappe ma porca miseria allora dobbiamo accompagnare il tipo questo qua e qua e qua e qua no 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 ci muoio ci muoio ci muoio raga l'abbiamo l'abbiamo rischiata mi dispiace me lo siete voluto voi però gli mortacci vostra e porca miseria no 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 aiuta medicina medicina non ha fatto niente la medicina è incastrato è incastrato raga mi dammi la mia frecce intanto grazie raga l'aereo è una roba fantastica perché vi salva quasi sempre oh figlio di non mi dare fuoco la casa raga ma quanti sono raga quanti sono c'è più una tizia le bocce fuori raga io non c'è niente raga posso farmi è morto sono tremolato si dovremmo andare a prendere materiali a quanto pare raga posso salire sugli alberi questi qua ah sono tutti lì lo aspetta facendo una mega grigliata di burtaccio ho preso fuoco via fuggite via 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 se sapete chi può sopra sale 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 ma quanti sono ma lasciatemi in pace aia ok avete paura dell'acqua voi fantastico dai vieni qua dai vieni qua si vieni qua dai vieni dai vieni ok i mortacci vostra dovete lasciarmi in pace dai vieni dai vieni dai vieni ho copato tuo zio no ho paura a coparne su un altro su hai paura hai paura hai visto che posso coparvi tutti dai fatevi sotto se avete fatto a quanto ho capito hanno spostato la testa dell'aereo perché è spostata cioè è sparita e quindi dovremmo anche andare a ricerca di nuovo della testa dell'aereo perché non è più nel posto dove si trova come fai a incastrarti su un sasso e passi sopra tutto sei un quattro ruote sei un comunque le zone dove vedete ci sono questi totter sono le zone battute dagli indigeri quindi non si può fare niente dove c'è raga no però dai dovete lasciarmi in pace un attimo un secondo lasciarmi in pace fregarmene di tutto non mi hanno visto vero però no raga raga no 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 avete visto cosa è già perché è superficie quello quello non dovrebbe stare lì no raga uno di quei boss devastanti no 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 raga ci abbiamo vicino casa non siamo pronti guarda che infame infamella vuole attendermi da trappola sto qua ma questi sono più di uno Eccolo là c'è il boss L'acqua Beh zio Ah è morto è negato Raga squalo 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 ragazzi è uno squalo Raga c'è uno squalo Raga c'è uno squalo No Raga C'è uno squalo C'è uno squalo No Ok allora qui abbiamo la valigia Vediamo Queste sono altre Scotche e vestiti Snack Snackini Tartarughe No No raga Raga Ci sono Ci sono tre Tre più la tribù Vengo in pace Mi hai visto Mi hai visto Stai dietro Ma dove è andato Vabbè comunque ne abbiamo eliminato uno affogandolo Andiamo Vieni Vieni Perché non muore Cos'hai da ridere Ma che vuoi Ma muori Raga Ma muori Ah sono affogati Allora Eh sì Caraventiamo i tuoi portatili Cosa vuoi Ma muori Raga respirano sott'acqua Quello da dove è apparso Ehi Sono qui Va via Gabbiano Prendi Sono qua Oh Non mi vede Non mi vede Sì mi vede Mi vede Mi vede Edì va Mori 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 E' morto Ma raga Annegano in una poccia d'acqua E' morto vicino a quell'altro Intanto Quello lì Ma cosa vuoi Vabbavia Guarda C'è Mortano sott'acqua Ma che Raga ma c'ha le bombole Sti qua Dove vai Allora Non ci siamo capiti Sì bravo Fuggi Ma che vuoi Devi morire tu Raga se sta andando No tu non te ne vai Vieni qua Puffì Mi ignora Mi ignora Ah Via 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 Vieni 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 È bravo È bravo Vieni qua Andega Andega Stai Dovevi morire E muori tu Ma taci Muori Allora Ma guarda Ma guarda Lì Ma guarda che respira Sto qua È infame Via Vedere Abbiamo una molotov Ok Proviamo l'acciaio Magari Si accorge No Si accorgerà Cavoli Che C'è Fuoco Eh Si Ma dai Non vieni da là Che ignorante Che sei Allora Proviamo con l'arco Vediamo se Lo prendiamo Via Accendiera Mi ha mancato E Qua Via E qua Bravo Vieni Muori 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 Ah 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 Dalla Il nuovo metodo Per sterminarli Tutti Ce ne abbiamo Ne abbiamo Occupati Tre Così Tre Cos'è Vediamo Ma cos'è che ho preso Ho preso qualcosa Cos'è che ho preso Armature Inquietante No Raga Ma avete visto C'ho la pelle del tipo addosso Che schifo Raga Però la più forte è l'armatura È viola Guardate Quindi mi danno l'armatura Fantastica Raga Ce n'era uno È sparito Chi ha finito Raga Il nostro eroe È riuscito a sopravvivere All'attacco Di quattro boss Riuscirà A sopravvivere Anche agli altri Lo scopriremo Nel prossimo episodio Per Questo Video È tutto Io vi ricordo Di Commentare Lasciare like Condividere E iscrivervi Per sapere Tutti i nuovi episodi Ciao